E ragazzi siamo in Serie A, Serie A arriviamo, è tanto già valoso che l'anno prossimo gioco all'Olimpico, ale ale ooo Allora ragazzi bentornati in questo nuovissimo video di Sportzin Oggi andremo a parlare di Lecce Pordenone, ci dovete scusare se facciamo il video solo oggi ma ieri eravamo presi dall'euforia, eravamo emozionatissimi E quindi non abbiamo voluto fare il video, dovevamo essere per forza a mente fresca perché presi dall'emozione potevamo dire qualsiasi cosa ragazzi Quindi abbiamo deciso di aspettare il tempo necessario per metabolizzare tutto quello che c'era da metabolizzare Non è stato metabolizzato però Non è stato pienamente metabolizzato perché le emozioni il giorno dopo sono il doppio di quelle del giorno prima E niente, Francesco, che ci dici di Lecce Pordenone? Che ci dici di Lecce Pordenone? Io ti dico che è stata una partita dominata Parte qualche spiraglio del primo tempo dove Pordenone ha diciamo un po' messo in difficoltà però neanche tanto Il Lecce contando soprattutto un dato molto direi rilevante Ovvero che il Lecce nel primo tempo ha fatto la bellezza di 15 azioni Quindi neanche roba da niente Quello che posso dire è che è stata una delle giornate più belle della mia vita Perché rimango sempre fedele all'11 maggio Però Veramente è stata una giornata bellissima contando anche che allo stadio io e Filippo non ci dovevamo essere Contando questo Il Lecce è arrivato praticamente due ore e mezzo prima della partita Non si sa come, non si sa quando Noi ovviamente presi da una gioia pazzesca ci siamo regati allo stadio praticamente mezz'ora dopo E niente Il seguito sappiamo tutti qual è Meno male che è andata così E niente da dire Mi spiego questo retrocena ragazzi Praticamente io giovedì avevo provato a fare i biglietti Quando erano usciti i 2000 posti nuovi Ero arrivato Ero arrivato al momento del pagamento Avevo pagato Vado a vedere sull'email i biglietti che appunto mi avevano mandato di VivaTicket E niente mi diceva Transazione non è andata a buon fine quindi Niente non avevo più il biglietto e ho provato a rifarli Niente ragazzi erano Io sono ridi e lì veramente Mi sono innervosito perché avevo già avvisato Francesco che l'avevo fatto il biglietto Quindi un disastro Tanto che ieri Avevo programmato anche la live da fare qui a casa In compagnia di Francesco Abbiamo fatto pure la storia sull'istra Sì E tanto che ragazzi alla fine Abbiamo dovuto cancellare tutto Disdire tutto L'appuntamento che avevamo alle 20 e 15 Perché All'ultimo momento c'è stata una sorpresa bellissima Io di Lecce-Pordenone personalmente penso che Ieri il Pordenone nel primo tempo Sembrava che stesse facendo la partita della vita Quando non aveva nulla da chiedere al campionato Perché è già retrocesso da qualche giornata Mi è piaciuto molto quello che Il rispetto che c'è stato Nei confronti del tifosi del Pordenone Che ci hanno ceduto appunto il settore ospiti Per avere ulteriori posti a disposizione Per noi Posso aggiungere l'immagine Forse quella più bella a mio parere di ieri Si sono uniti alla festa Esatto Che è quella che i tifosi del Pordenone Si sono uniti In centro storico Si sono uniti ai tifosi giallorossi Festeggiando C'è praticamente la nascita di un gemellaggio Che io personalmente spero che duri nel tempo Che ha regalato un'immagine bellissima Di sportività Di sportività soprattutto In seguito a critiche e critiche e critiche In relazione all'episodio successo a Vicenza Esatto Guarda Francesco Io sono d'accordo con te Tra le centinaia di migliaia di tifosi Che ieri erano in piazza a festeggiare C'era questa decina di persone di Pordenone Tifosi del Pordenone E' erano undici Precisamente erano undici Tra l'altro mi è stato detto che allo stadio Ci sono stati offerti anche da pasticciotti Da parte dei nostri tifosi E niente E questo è il bello dello sport a volte Nel secondo tempo Vabbè vai vai Nel secondo tempo dicevo Poi siamo partiti bene Con il gol di Maier Forse uno dei peggiori in campo Nella prima frazione Che ha sbloccato per la partita Maier che è stato uno di quei giocatori Che nel corso della stagione A un certo punto Non si sa cosa gli è successo Ma mister Barone non l'ha più impiegato E' questo Io volevo aggiungere il fatto Che un'altra delle cose belle Successe ieri sera Che il Pordenone Io forse In Tutte Cioè tutte le volte sono andato allo stadio Mi sono trovato che La squadra avversaria Puntualmente Era soggetta A fischi Sì è vero È vero La prima volta dove La tifoseria non ha fischiato Oppure non ha Messo timore Anche se comunque Col colpo d'occhio Il timore c'era lo stesso Però Non ha messo quel timore Iniziale Alla La squadra avversaria Che è meritevole Di rispetto E stima Da parte nostra E niente Sì Questo Sono d'accordo Continuando Sul Sul secondo tempo Credo che Abbiamo fatto poi Una fase di possesso Palla Per tenere Bene stretto Quello che è stato Il risultato finale E niente Francesco Un top e un flop Al volo Top Lucioni Flop Gargiulo Sono d'accordo E devo aggiungere Che Lucioni Secondo me è stato Uno dei migliori Nelle ultime partite Perché No Chi t'ha morto A mie Vai Francesco Un top e un flop Al volo Top Lucioni Flop Gargiulo Sono d'accordo Con queste due scelte Mi sento di aggiungere Che Lucioni Nelle ultime partite Ha dato veramente Un contributo importante Alla squadra Davvero capitane Quale Lui è Ma soprattutto Quest'anno Ha saputo formare Uno spirito di gruppo Ma insieme a tutto Insieme a tutti Insieme alla società Al mister A tutte le persone Che ci hanno lavorato Dietro A Lecce E Mentre Gargiulo Quanto io posso Volerli bene Ma Secondo me è stato Uno dei peggiori In questa stagione Ma questo Andremo ad analizzare In un Paggellone Che faremo Nei prossimi giorni Ma ancora una volta Il peggiore Nella seconda parte Di campionato Sì Ma c'è praticamente L'infortunio Gli ha spezzato Le gambe Sotto questo punto di vista Sì Perché giocava bene Obiettivamente Sì Qualche Buona prestazione Condita da Qualche gol Diciamo che Per uno come lui Che l'anno scorso Col cittadello Ha fatto Otto gol Farne Due o tre Quest'anno Non è stato Forse il massimo No Nella seconda parte Di campionato Le prestazioni Sono calate Le sue prestazioni Sono calate E quindi Credo Che anche ieri Non abbia fatto Non abbia fatto bene Guarda Non so Non so se Ora Lo terremo Oppure lo cederanno Ma sinceramente Io mi sento di cederlo Anche su questo Torneremo a parlare In un altro video E niente ragazzi Noi vi ringraziamo Per aver visto questo video Forza lecce sempre Siamo in Serie A Quindi Ora godiamoci Questa festa Fra qualche giorno Penseremo Al calciomercato Ora Naturalmente I giocatori Sono penso In ferie No E Vabbè Penso C'erranno due Mi sembra che avranno Due allenamenti E poi Libera tutti Penso fino Almeno Alla Alla fine Del Campionato Di Serie B Per chi ora Aspettano i playoff Alle altre squadre Quali Pisa Venemento Monza Si E poi Penso che Giugno Luglio Faranno La nuova squadra Per la Serie A Eppure Appunto Di calciomercato Ne parleremo Sul mio canale Vi invito Ad iscrivervi Philips Ve lo lascio Qui sotto In descrizione Iscrivetevi Anche a Sporzin Ragazzi Dobbiamo Crescere Tantissimo Visitate Il nostro Sito Web Sta scritto Qui sotto In Sero La pressione www.sportzin.it Slash Filippo Ultima cosa Velocissima Secco Devi essere Chi sale Con i playoff Guarda Questa domanda Mi metto un po' In difficoltà Anche se io Da giorni Dico che Per me Non so perché Mi sento Questa cosa Anche se Questa squadra È calata Eppure ieri Non ha fatto bene Infatti Se non sbaglio Ha perso In queste ultime ore Si era parlato Di un possibile sonero Ma per me Sale il benevento Per te Francesco Anche per me Benevento Occhio all'Ascoli Anche ragazzi Anche Anche E niente ragazzi Per me il Monza Per me il Monza Deve fare un altro anno Di Serie B Poi sale l'anno prossimo Poi vedrete ragazzi Salvatevi questa clip Ciao ragazzi Un saluto a tutti